Mi chiamo Alex e da grande voglio fare l'astronauta. Sono le nove, tesoro. Ciao. Un bacio della buonanotte. Sì. Sì? Va bene, è ora di fare i compiti. Tu lo sai fare? Sai dare il buon esempio? Certo, sarò il fratello maggiore e più bravo del mondo. Così mi piaci. Alex, va a letto. Dai, posso vedere come finisce questo? No, è tardi e c'è il telegiornale. Allora, posso avere una tv in camera mia? Ti stiamo dando molta fiducia. Puoi guardarla mezz'ora al giorno. Quando diciamo di spegnere la tv, si spegne la tv. Ma è bene, papà, mi basta avere la tv in camera. Mio figlio da grande vuole fare il soldato. E personalmente non ci vedo niente di male. Alex è un bravo ragazzo. Forse lo è a casa, ma non lo riesco a dare. Alex! Che c'è? La maestra non ti sopporta più, lo sai che significa? Sei espulso! Io voglio dirle una cosa che penso sia importante per Alex. Ha un amico immaginario. I bambini devono essere corretti. Nessun nemico riuscirà mai a raggiungermi. Vedo una gran marmaglia intorno a me. Dipingi! No! La città di Rosso, soldato! Signor, sì, signore! Tu sei un killer! Sei un killer! Nessun nemico riuscirà mai a raggiungi. Non ti sopporta più, 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 non ti sopporta più. Nessun nemico riuscirà mai a raggiungi. Grazie a tutti.